Per finire prendiamo l'altro blu, ma no, non l'abbiamo ancora finito, stavo scherzando. Buonasera, benvenuto a questo nuovo video ASMR. In questo video andremo ad eliminare tutti i pensieri negativi, tirarli fuori dalle vostre espermetti attraverso il potere magico degli spilli. Andiamo ad applicare quindi gli spilli qui, sulla spugna del microfono del Blue Yair. Come primo spillo andiamo a prendere il gianno, un colore molto presente all'interno del anale. Come secondo colore prendiamo il rosso. Come terzo colore, l'azzurro. Come quarto colore, mi tocco gli occhiali perché non vedo i colori, scrivete nei commenti che colore è questo. come quinto colore, il turguesimo. Come quinto colore, il turguesimo. Come sesto colore, verde acqua. Poi, di nuovo, un arancione. Poi prendiamo il blu, il blu. Poi prendiamo il rosso. Il blu. E lo mettiamo ancora. Poi prendiamo anche il blu. Poi prendiamo anche il blu. Il blu. Il blu. No. Poi prendiamo il verde. verde speranza. Poi prendiamo il rosa. Non si riesco a tirarlo fuori, il rosa. Poi prendiamo il color senape. Il blu. Poi prendiamo il verde. Ci facciamo solo tubo adesso. Poi prendiamo il verde. Poi prendiamo il verde. Poi prendiamo il verde. il bianco, poi prendiamo il turquese, e poi per finire prendiamo l'altro blu, ma no, non l'abbiamo ancora vinto, stavo scherzando, prendiamo anche un altro viola, e poi un altro giallo, facciamo un verde scuro, molto delicatamente, li applichiamo tutti, riempiamo la cappella la microfonica di spille, spalla, spille, spalla, spille, 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 Grimpiamo tutti, dai! Meglio appuntare che è difficile, dicevano i romani. Il sorriso apponta sulla bocca degli stolti, dicevano anche. Io sorriso sempre in live, sarò stolto, non lo so. A proposito seguite anche le mie live. Sulla periola e su TikTok. Sono tutto sulla periola. Bene, adesso penso di aver raggiunto un grande livello di spilli. Dobbiamo procedere con l'estrazione, ogni spillo è un pensiero negativo. Momento copertina. Io incomincierei a tirar via un spillo di colore giallo. Uno spillo che starà ad indicare la tristezza. Preleviamo il pensiero negativo della tristezza. Poi preleverei verde. Verde che solitamente è speranza. Però la speranza a volte porta anche la delusione. E preleviamo il pensiero negativo della delusione. Via! Pensiero negativo della delusione. Via! Adesso preleviamo il pensiero negativo della solitudine. Lo userei col blu. A volte ci sentiamo soli molto spesso. Nonostante siamo sempre più interconnessi con social network. La solitudine è uno dei mali più grandi che abbiamo oggi. Poi toglierei il pensiero negativo molto diffuso. Il pensiero negativo della apatia, della voglia di non fare nulla. Ma anche il pensiero negativo della provare odio verso qualcuno. E quindi anche la rabbia. Via la rabbia. Come altro pensiero negativo. Come altro pensiero, preleverei l'ansia. L'ansia che è il male dei nostri giorni. Via l'ansia. La paura di sbagliare. Con lo rosso passione andrei invece con l'ansia da prestazione. Con questo bianco che sta a indicare la purezza, toglierei il pensiero negativo di non crederci abbastanza nelle cose che vogliamo ottenere. Questo qui che non capisco che colore è grigio o senape, invece lo individuerei come l'overthinking, l'aver troppe cose nella testa e rimorginare, e pensarci troppo. Questo rosa lo farei sulla misoginia, il pensiero negativo della misoginia, cioè le persone che per esempio odiano le donne, gli uomini che odiano le donne o le donne che odiano le donne, perché spesso sono le donne stesse a tirarsi frecciatine e a non rispettarsi tra di loro secondo me. Verde speranze, dicevamo prima, ma anche invidia. Sono verde di invidia. Ha ragione, allontaniamo il pensiero negativo del tradimento. Non tradiamo ma cerchiamo anche non essere traditi, stiamo attenti, concentriamoci. Il giallo. La disonestà. A volte sembra pensare, a volte potremmo pensare che essere disonesti, essere disonesti conviene rispetto ad essere onesti, prendere la scorciatoia, la strada più breve. Beh, è inutile dirvi che secondo me alla fine della fiera non conviene mai. Quello che conviene invece sapete cos'è? Adattarsi alle circostanze. Voi nella vita non dovete essere più bravi. Infatti questo qui, questo è il pensiero negativo del voler essere a tutti i costi il migliore. Nella vita non va avanti il migliore, non vanno avanti i migliori. Vanno avanti le persone che si sanno adattare meglio. Togliamo il pensiero negativo. Non adattarsi, non uscire dalla comfort zone. O per meglio dire, non allargare la propria comfort zone. Questo pensiero negativo lo dedico a chi infatti non rispetta abbastanza se stesso. E credetemi, la maggior parte dei problemi che ognuno di noi ha, che gli individui hanno, è perché non rispettano abbastanza se stessi. pensano di volersi bene, ma in fondo non se ne vogliono. O se ne vogliono in modo sbagliato. Rispetta te stesso, se vuoi più rispetto delle altre persone. Togliamo infatti il pensiero negativo dell'essere rispettosi. E anche quello dell'essere empatici. troppo timidi. E togliamo anche il pensiero negativo dell'essere troppo timidi. Ma anche dell'essere troppo estroversi. Va bene neppure. Si deve tenere un comportamento equilibrato. allo stesso tempo si deve stare molto attenti a non perdere se stessi. Dobbiamo semplicemente capirci di più. Dobbiamo semplicemente conoscere meglio noi stessi. Ed andare in una direzione. direzione. Andre diceva andare in direzione ostinata e contraria. Non sia il caso, ovviamente non sempre. ma non abbiate paura di cambiare direzione. Non abbiate paura di andare in direzione ostinata e contraria. buonanotte. Buonanotte. Fai bisogno. Rilassati mi raccomando. Credi sempre in te stesso. le possibilità. Investi sempre in te stesso. Togliamoci l'ultimo pensiero negativo che ci fa credere di non essere abbastanza. Noi siamo abbastanza. Se ti è piaciuto questo breve video smr se ti ha rilassato lascia un like e iscriviti al canale se non lo sei già. Facciamo così. grazie.